Allora ragazze voglio farvi vedere un po' di accessori che mi sono arrivati oggi che secondo me voi impazzirete Questa linea è di P.T. Malie e sono delle ragazze che nascono come mie fan e hanno pensato a questa collezione per me A parte gli anellini ragazze che sono totalmente impazzita perché li cercavo per le bottiglie Poi la loro caratteristica è che appunto vicino ad ogni accessorio c'è questo sacchetto In uno c'è scritto emozioni nell'altro amore quindi tu puoi decidere di regalare un sacco d'amore, un sacco di emozioni o di fortuna Ora li indosso così ve li faccio vedere Allora questo è l'abbinamento scelto per me come vedete queste quattro collanine di quattro diverse lunghezze Poi ci sono gli orecchini con gli aircalf che è veramente il mio must have ragazzi, impazzisco Come vedete sono tutti design molto particolari, è una cosa che mi piace tanto di queste ragazze Oltre a produrre prodotti di qualità perché questi sono gioielli tutti argento bagnati in oro 18 carati E che sono giovani imprenditrici come me e quindi dobbiamo aiutarci tra di noi Vi faccio vedere anche questo modello che è della collezione barocca che è una limited edition di metallo bagnato in oro Con un nuovo aircalf Quindi vi lascio ragazzi lo swipe up così trovate tutte le loro collezioni che sono super carine In cui le trovate anche nelle gioiellerie Grazie Ma se è il diritto così siamo tranquilli io, te Giulia, ma anche storto I modelli... Ehm 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 Ehm